È Daniela Aiello, la vincitrice della decima edizione di Start Impresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla sezione Servizi Informativi di Confindustria di Chieti Pescara. L'idea vincente è stata quella della creazione e commercializzazione di un abbigliamento femminile sostenibile e di alta qualità, capace di unire la bellezza alla promozione della salvaguardia del pianeta. Obiettivo di Start Impresa è quello di fornire agli imprenditori del domani gli strumenti per far volare le proprie idee, come spiegato da Paolo Campana, vicepresidente di Confindustria di Chieti Pescara e referente del progetto Start Impresa. Quest'anno Start Impresa ha una significativa novità, abbiamo attivato la formazione a distanza, per cui è stato tutto un progetto completamente nuovo da affrontare, in cui sia noi che i docenti che le persone che hanno partecipato al corso hanno dovuto affrontare difficoltà ma anche semplificazioni rispetto alle edizioni precedenti. Il tutto è stato estremamente positivo, molte persone hanno partecipato, molte sono state presenti durante tutti i corsi, molte hanno presentato i business plan che erano l'obiettivo finale da raggiungere come risultato del corso e quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti. Tra i cinque finalisti, oltre alla vincitrice Daniela Aiello, anche Riccardo Bozzi, con tecnologie innovative, funzionali e professionali per il benessere dei cani. Edoardo Buccella, con una piattaforma vetrina che incrocia domanda e offerta di case in affitto per contrastare lo spopolamento dei borghi dell'entroterra sfruttando le potenzialità del web per il turismo, Ophelia Carlotti, ideatrice di un make-up personalizzato, e Marco Laurenti, specializzato nel settore delle criptovalute e dei blockchain, che ha proposto il primo media online in Italia che offre ai lettori contenuti di alta qualità su questi temi certificandoli in blockchain. Tante idee per l'imprenditoria del domani dunque, costretta a rimodularsi sui nuovi scenari disegnati dalla pandemia, come dichiarato anche da Paolo De Grandis, presidente della sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. I giovani hanno quella visione in più sotto l'aspetto della tecnologia, della digitalizzazione, che rappresenta il fattore chiave sicuramente da cavalcare in questo periodo. Oggi la digitalizzazione ci permette di lavorare a distanza, di studiare da casa e quindi non possiamo più prescindere da questa tecnologia.